Lui all'epoca aveva infatti una relazione semifissa, quasi seria, con una ragazza non tanto bella, ma tanto spregiudicata e intelligente. Boh, un intellettuale di sinistra abbiamo capito il tipo, eh? Vabbè, perché lo dici con questo tono di disprezzo, scusa? Io? Disprezzare l'intellettuale? Ma va là che ero onorata, io mi culturizzavo. Poi lei amava la mia cucina e mangiava e mangiava, che come mangiano gli intellettuali non mangia nessuno. Vabbè, se sei cattiva però, eh... Sì, sono cattiva, vabbè, c'ho la testa che non la rego più per le corna, lasciami almeno essere cattiva. Oh, lei lo amava, al contrario di me, in un modo non possessivo. Infatti c'era una storia con un tizio che frequentava una che... Con chi è che era sposata? Eh, con lui. Sì, la catena di Sant'Antonio delle coppie aperte. Un lavoro, eh? Pure mio marito, pure mio marito contemporaneamente frequentava una ragazzina molto carina, eh? Ma una golosona, mangiava tanti di quei gelati. Lei studiava e lui l'aiutava fra i compiti, eh? Vabbè, allora era un gioco. Ci giocavo proprio con quella ragazzina. E sai perché mi piace? Perché è matta, imprevedibile, ride, piange, fa i capricci, vomita i gelati ancora interi. Mi fa sentire un ragazzo a mia volta, eh? E nello stesso tempo anche un po' un padre. Un ragazzo padre? Battuta facile, eh? Sì, vabbè. Stai attento che non resti incinta, dicevo io. E io ci stavo pure attento, ma io cosa ne sapevo di quello che combinava lei quando vedeva gli altri ragazzi? Eh, oh, io ho anche provato a controllare, ma lei non voleva. Insomma, mio marito un giorno viene da me tutto imbarazzato e mi fa... Senti... Che c'è? Senti, insomma... Queste sono cose da donne, eh? Sì. No, pensavo... Perché non accompagni tu Piera? Piera è il nome della ragazzina dei gelati, eh? Dicevo, perché non accompagni tu Piera dal ginecologo, eh? Sai, per farsi mettere la spirale, eh? Dai, eh? Forse tu riesci a convincerla. Anzi, guarda, secondo me, ci metto la mano sul fuoco? Con te Pierina ci viene di sicuro. Eh... Ma sì, dai, va bene. Sì, faccio da mamma la Pierina. L'accompagno dal ginecologo e ci dico, che il ginecologo ci metta subito la spirale alla fidanzata di mio marito. Ma speriamo almeno che lui sia spiritoso come noi, no? Ma la metto a te la spirale, sai? È nel prepuzio che così fai la pipìa girandola! Ecco come ha reagito!